Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti su Il Foglio, che è un giornale fondato da Giuliano Ferrara, uno dei pentiti della generazione del 68, di quelli passati dai canti salmodianti per l'universalismo proletario ai nuovi canti salmodianti per la globalizzazione imperialistica statunitense, ebbene su Il Foglio esce un articolo dal significativo titolo Viva la Bibbia queer, con tanto di foto arcobaleniche di soggetti in pose stravaganti. Ora, con Oswald Spenger possiamo ben dire che l'Occidente non tramonterà per il semplice fatto che è già tramontato. Il famoso tramonto dell'Occidente, messo a tema dall'opera fondamentale di Oswald Spenger, è sotto i nostri occhi. Ci siamo già dentro e siamo tanto più tramontati quanto più nemmeno ci rendiamo conto del tramonto in atto, e anzi arriviamo a scrivere delle cose come Viva la Bibbia queer, che evidentemente è un puro e semplice modo di produrre quella che con Lukács chiamerò la distruzione della ragione. Ora, con tutto il rispetto per i gusti di ciascuno, la mia tesi, come sapete, è che tra adulti e consenzienti ogni gusto sessuale sia legittimo, e però mi pare che andare a riscrivere la Bibbia in senso queer, LGBT, che secondo le tante mode del nostro presente capriccioso e arcobalenico sia un puro non sequitor. E il fatto che più sconvolge non è che qualcuno scriva la Bibbia queer, che è una delle tante stravaganze del nostro tempo, ma che questo qualcuno, lungi dall'essere criticato, venga anzi esaltato, a tal punto che un giornale, forse un giornaletto come il foglio, si spinge a dire Viva la Bibbia queer. Ecco, credo che il tramonto dell'Occidente si manifesti in molti modi, diremo con Aristotele, ma questo è sicuramente uno di quei modi.